Martedì 5 ottobre, buongiorno, sono le 7 e tutto va bene. Siamo qua in diretta dagli studi di Fano TV per dare uno sguardo, un'occhiata ai giornali che abbiamo già selezionati per voi questa mattina, commentarli un po', oggi abbiamo molti numeri che riguardano soprattutto le elezioni amministrative in molti dei comuni della nostra regione, noi ci soffermeremo evidentemente in quei 7 che riguardano la provincia di Pesurbino. Poi vedremo un po' com'è la situazione della pandemia, poi c'è la notizia di cronaca dell'arresto dei 4 che avrebbero fatto parte appunto della banda che ha ucciso Bruzzese nella giornata di Natale di 3 anni fa a Pesaro. Queste più o meno sono le notizie di oggi, ma come sempre andiamo e cominciamo con il santo, poi vediamo il tempo perché c'è un cambiamento. Oggi una santa molto amata, soprattutto per chi recita ogni pomeriggio alle 15 la coroncina della Divina Misericordia, come facciamo noi qua tutti i giorni ormai da molti anni qui dalla cappellina di Fano TV, la coroncina della Divina Misericordia, parliamo di Santa Maria Faustina Kowalska. Il sole sorgerà alle 7.10 e tramonterà alle 18.42. Allora, dicevamo del tempo, intanto il tempo, la pioggia interesserà la catena penninica delle Marche, poi qualcosa pioverà nel corso del pomeriggio anche sulla spiaggia, sulla costa sanbenedettese. Ma il peggioramento arriva ed è previsto dalla protezione civile delle Marche per domani, in mattinata fino al pomeriggio, precipitazioni debole diffuse, ad eccezione del comparto basso collinare costiero meridionale, dal tardo pomeriggio diffuse anche a carattere di rovescio, di temporale e persistenti nel settore centrale della regione. Poi invece giovedì ancora, tempo perturbato con piogge temporali, rovescio, temporali diffusi e persistenti nelle zone centro-meridionali della regione, più sparsi altrove con progressivo esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Possibili condizioni di stabilità anche per il fine settimana. I titoli Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, presi killer di Bruzzese, tre arresti del ROS fanno luce sul delitto del Natale 2018, uccisi per vendicarsi del fratello Pentito. L'omicidio pianificato nel 2017 dall'Andrangheta, i sicari più volte in città, quindi a Pesaro, per pedinare la vittima. A centro pagina il comune vuole il Think Tank, la sfida capitale della cultura. La profilassi per il coronavirus, la terza dose per gli over 80, prenotazioni al rallentatore. In breve, dall'Atari all'Imu, comune rimborsa le giovani imprese. Il comune, quello di Pesaro, assolto Closciard, che era truffatore a sua insaputa. E da Fano, assunzione, ritirata, l'assessore tenuto all'oscuro da Aset. Poi niente sorprese, dalle urne passa il patto Fossombrone. Poi PM, il PM, il Pubblico Ministero, Silvia Cecchia, il convegno. Il lisippo venga restituito per il diritto. Berloni sfonda, Barbieri, Bulgaro. A Fossombrone passa il listone. A Mondolfo il primo cittadino rivince con oltre l'84%. A centropagine, invece, la fotonotizia andrangheta presi killer. Quattro fermi per l'omicidio bruzzese del Natale 2018. Il fratello del collaboratore di giustizia fu freddato dai sicari nel garage di Via Bovio. Dopo tre anni la svolta nelle indagini. Ecco come la cosca concretizzò la vendetta di sangue. E poi si parla di chiesa. Il progetto di Papa Francesco, le arcidiocesi di Urbino e Pesaro potrebbero essere fuse in una. Poi il candidato di Gredara, unico candidato, vince. Gasperi la sfida al quorum. Ora faccio la nuova scuola. Poi a Fermignano la conferma di Feduzzi. Betonica al 41. E Mondave con il Metauro. Zenobi primo pure nel doppio. Mentre il dopo a Guzzi è con Briganti. Piada Marina invece ha chiuso per sempre il chiosco al Porto di Pesaro. Prima o poi però dicono i titolari torneremo. VL solo mille abbonati ma si riparte. Si riapre. La campagna ricomincerà giovedì. Intanto botteghini aperti per la giornata di domani. Uno sguardo anche al carino di Macerata. Ecco i sindaci. La fotonotizia del giorno. A Porto recanati l'exploat di Andrea Michelini. Rosa Piermattei fa il bis a San Severino. Andrea Staffolani vince a Morovalle. E Patrizio Leonelli a Castel Raimondo. Le pagine interne. Siamo a pagina 2 del resto del carino. Questa è la notizia. Ci sono diverse pagine che il giornale dedica all'arresto. Dopo tre anni di indagini da parte dei carabinieri della Rosa. Del gruppo dei sicari. Che ha affreddato il giorno di Natale il Bruzzese. Il titolo Drangheta omicidio di Natale. Presi gli assassini di Bruzzese. Il fratello del pentito ucciso in via Bovio. Vendetta della cosca. La vittima viveva sotto protezione in città. A Pesaro dal 2009. Ma non faceva nulla per nascondersi. E poi la scheda. Ecco chi sono i quattro fermati. Sempre dal resto del carino i tentacoli della mafia anche sulle Marche. Ma qui le cosche non sono strutturate. È l'analisi del generale Pasquale Angelo Santo. Comandante nazionale del ROS. Che dice si muovono comunque in un territorio dove hanno solidi appoggi. Un colpo devastante alla famiglia Crea. E poi sotto rispetto alle altre regioni. Qui entriamo nel dettaglio. I clan non sono organizzati nelle Marche gerarchicamente. Ma comunque restano le Marche una terra appetibile. Intanto a febbraio dell'anno scorso venne smantellata una moderna holding criminale. E adesso invece apriamo la pagina della pandemia. Contagi in discesa. Nelle Marche ci sono davvero buone notizie. Perché in sette giorni addirittura un meno 12%. Scrive il Corriere Adriatico. Siamo praticamente come a luglio. Poi lo vedete qua. Questa è l'andamento. Vedete come a un certo punto stiamo davvero scendendo. L'incidenza nelle Marche è tornata sotto i 30 casi settimanali a ogni 100.000 residenti. In calo anche i ricoveri per Covid. Il 4,2% in area medica. E l'8,5% in terapia intensiva. Tra 3 over 12 su 4 risultano vaccinati con doppia dose. Mentre nelle ultime 48 ore nessun decesso correlato al virus. Intanto sulla terza dose per gli over 80 si parte con il freno a mano. Prenotati soltanto in 678. Oggi scatta la profilassi negli A vaccinali per 112.000 marchigiani. Tra l'altro qui bisogna dire che per quanto riguarda la terza dose al di là delle persone fragili. Molti già insomma lo hanno fatto. Ma davvero sulla terza dose occorrerà che lo Stato faccia molto di più che minacciare con il Green Pass. Bisognerà passare davvero alle maniere pesanti. Perché stando a quello che sento la terza dose. Anche quelli che hanno avuto proprio il minimo sindacale di reazioni avverse. Quindi un dolorino soltanto alla spalla. Non ci pensa proprio a fare la terza dose. Quindi bisognerà vedere. Sarà curioso vedere come obbligheranno poi per la terza dose gli italiani. Intanto gli anticorpi monoclonali sono una vera arma segreta. Ci arriviamo ufficialmente. Ci si arriva a dirlo, a dichiararlo dopo tre anni. Dopo due anni scusate. Ma ovviamente per chi, e qui mi ci metto anch'io, leggeva, andava a cercare informazioni sui siti quelli che contano e quelli che non nascondono le cose. Questa cosa non è una novità. Io lo sapevo già. Non so perché. Non sono un virologo. Non sono un esperto. Non sono nulla. Però sono uno che si informa. E questa cosa che era un'arma segreta lo sapevo già da un anno. Guarda caso. Adesso viene fuori. E comunque la verità come sempre arriverà. Ma ci vorrà un po' di tempo. Intanto la pagina di Fano sull'antifluenzale, la terza dose, anche qui tutto in alto mare. Vedete? Il Ministero dà il via libera alla doppia somministrazione, ma i primi non sono ancora arrivati e nelle case di riposo attendono disposizioni. La pagina di Urbino invece, che ho preparato questa mattina, pagina 21, si occupa di questa possibile fusione. Ma di questo ormai si parla da diverso tempo. Anche se poi va detto che Papa Francesco in qualche modo sta accelerando un po' questo processo di fusione tra le diocesi. Ne abbiamo alcuni esempi qua vicino. Insomma, Urbino e Pesero, diocesi a rischio accorpamento. Poi non capisco perché è un rischio, ma comunque vabbè. Diocesi a rischio accorpamento. Papa Francesco ha avviato la riforma e questa potrebbe toccare anche Urbino. Monsignor Tani dice ancora però non c'è nulla di concreto. Vi segnalo anche invece, a pagina 18, sempre del Carlino, un articolo di Silvano Clappis su un personaggio che i fanesi, quelli che poi hanno una certa età, comunque conoscono sicuramente molto bene. Il titolo è Quella libreria, un cenacolo di intellettuali. Il personaggio, dicevo, sicuramente molto conosciuto è Alfonso Pagnoni, che è lo storico titolare ormai in pensione dell'attività che aveva la libreria, Bazzani, che aveva in piazza 20 settembre a Fano, che è stata chiusa nel 2007, fu il centro della cultura fanese del Novecento e il giornale oggi gli dedica una intervista, lo vedete qua, Alfonso Pagnoni appunto, mentre risponde alle domande di Clappis. Mentre da Senigallia, nel segno di Emma, assegnati i premi ai ragazzi, parliamo della strage di Corinaldo, una cerimonia al teatro La Fenice, per ricordare la quattordicenne appassionata di scrittura, vincono Elisa e Matilde. Arrivati oltre 250 elaborati, racconti toccanti sul tema del ricordo. E poi, grande festa per la super trisnonna, Maria Luisa spegne 105 candeline, Lorenzetti ha superato le due guerre e tanti sacrifici, ha insegnato a intere generazioni di studenti. E allora, un'altra notizia, prima di parlare delle elezioni, allora riguarda, siamo sulla pagina 12, del carriero di Macerata, le speculazioni sul metano. Un esposto alla finanza, raffica di segnalazioni degli automobilisti, si muove feder consumatori, prezzi diversi sul territorio, non dipende solo dai rincari, della materia prima. Il metano, che una volta si diceva, come scrive giustamente Franco Veroli, il metano ti dà una mano, un vecchio slogan, almeno recitava così, adesso probabilmente non lo è più. Insomma, più che una mano ti dà una bella stangata. In questi giorni ci sono diversi fattori per i quali il metano è aumentato in maniera esorbitante e, insomma, Feder Consumatori Macerata vuole vederci chiaro, perlomeno fino in fondo, perché questi costi sono diversi da una parte all'altra della provincia. Insomma, speriamo che queste associazioni di categoria, per le quali poi ogni anno si pagano e vengono pagate, insomma, si diano da fare, si diano da fare per cercare di capire e fare qualche cosa. Allora, adesso apriamo invece le pagine dedicate ai comuni, ai sette comuni della provincia di Pesurbino che sono stati chiamati a eleggere i nuovi sindaci. Partiamo dal Corriere Adriatico. Questo è del quadro generale con i comuni più rappresentativi. Intanto, diciamo, per esempio, nei due comuni sopra i 10.000 abitanti, ovvero San Benedetto e Castelfidardo, abbiamo intanto oggi il risultato finale tra Pasqualino e Antonio Spazzafumo. A Castelfidardo, invece, Turghetti e Ascani andranno al ballottaggio. Come vedete nel riquadro qua a destra, invece, abbiamo a Porto Ricanati Michelini eletto sindaco, Briganti a Colle e Metauro eletto sindaco, Staffolani a Morrovalle è stato eletto sindaco, a San Severino passa Rosa Piermattei con il 66, a Monte Granaro passa Ubaldi Enrio con il 56%. Poi abbiamo visto il risultato strepitoso di Nicola Barbieri a Mondolfo. Andiamo adesso, invece, a vedere pagina per pagina come sono andati un po' nei vari centri. Allora, intanto partiamo da Fossombrone. Il titolo del Corriere Adriatico Berloni distacca gli avversari. L'imprenditore eletto sindaco quasi con il 60% dei voti. I forsempronesi premiano il patto trasversale PD e Lega. Lo abbiamo sentito ieri che ha seguito il nostro telegiornale Occhia la Notizia, eravamo in collegamento in diretta con Fossombrone dalla sede elettorale di Berloni. È stato accennato insomma che è forse unico nelle Marche, non lo so, ma comunque la sua coalizione comprende tutti i partiti dalla sinistra alla destra quindi insomma dobbiamo metterci subito al lavoro dice Berloni perché c'è molto da fare Chiara Billi che già ha avuto esperienze amministrative perché è stato vice sindaco con Pelagaggia qualche anno fa Chiara Billi ottiene il record di preferenze 930. Qui tra l'altro il Corriere Adriatico fa un buon lavoro perché vedete pubblica anche le liste quindi con tanto di preferenze vedete Chiara Billi Michele 930 preferenze poi Giù a seguire insomma Federica Rominti 367 339 Maurizio Mezzanotti insomma gli altri come sono andati lo vedete insomma sinistra per Fossombrone 7% 25% Londei che era lo sfidante diciamo che poteva impensierire sicuramente di più Massimo Berloni ma insomma il voto è stato un po' così con prima Fossombrone poi l'8% invece progetto comune che più o meno insomma rimasto sotto la soglia del 10% invece per Barbieri Barbieri abbiamo detto il successo è stato un successone un plebiscito come giustamente titola il Corriere questa mattina il sindaco di Mondolfo confermato con l'84,45% l'affluenza è calata ma i suoi voti sono aumentati del 72% abbiamo ottenuto dice Barbieri un ottimo un risultato storico Bonacorsi invece ovviamente deluso paghiamo 5 anni senza una vera opposizione ecco questo credo che sia il vero problema evidentemente insomma una vera opposizione a Mondolfo non c'è mai stata e quindi poi farla all'ultimo minuto gli ultimi due mesi insomma non è che paghi molto e comunque questo è il risultato vediamo un po' tra i vari tra i vari candidati allora nella lista Farecittà che è la lista di Nicola Barbieri che ha vinto vediamo così a colpo d'occhio Carlo Diotallevi credo che sia stato il più votato con 512 preferenze poi c'è Alice Andreoni con 490 e insomma davvero hanno preso tantissimi voti anche tutti quelli della lista che hanno partecipato insomma ecco 304 Evan Mattioli eccetera eccetera poi andiamo un attimo invece torniamo scusate indietro perché c'è anche Mondavio Zenobi questa volta vince per davvero e aumenta l'affluenza a Mondavio l'effetto della competizione eccola qua la competizione era tra Mirko Zenobi appunto Sindaco uscente e Girolamo Martino Zenobi che vince con il 71,40% contro il 28,60% anche qui diciamo Davide Albani è stato il più votato la lista si chiama per un futuro comune e poi Thomas Tarsi 171 171 preferenze andiamo invece a vedere la pagina la pagina 18 del Corriere Adriatico dove qui in teoria si parla di due località Gradara e l'altro che Mercatino Conca dove non c'era gara non c'era competizione bisognava soltanto superare il quorum perché c'era una sola lista unica e una sola lista e quindi di conseguenza il candidato non doveva soltanto aspettare di superare la soglia allora come è andata? è andata che a Gradara Gasperi ha fatto il bis ma l'affluenza è un'affluenza shock riconfermato dunque il sindaco uscente in corsa un'unica lista civica il quorum è stato superato di misura il 54% dei gradaresi ha evitato i seggi 131 schede nulle o bianche molti non hanno capito il pericolo Gasperi tra l'altro assicura così come i suoi candidati non vogliono sentir parlare di area di secessione sapete che Gradara sta lì al limite fa da spartiacque tra la Romagna e le Marche e molti sono i centri i comuni che vengono tentati dal passare da Romagna lo avevamo visto poco fa ecco però Gradara invece è un baluardo sta lì e non si muove insomma c'è questo castello Roccaforte che dice anche grazie appunto a questo sindaco che dice la secessione non parte certamente da qui noi siamo un ponte tra le due regioni ma siamo ben saldi nelle Marche mentre però ammette che domenica notte era preoccupato perché dice l'affluenza era ancora bassa era il 33% ma poi è stato salvato da questa nuova soglia del 40% mentre a Mercatino Conca Omar Lavanna passa lo stesso con 549 voti un'unica squadra ma è molto rappresentativa dice terzo mandato primo comune per affluenza lì c'è stata un'affluenza del 77% andiamo invece adesso a Fermignano Fermignano è stato rieletto Feduzzi Feduzzi che dunque brinda il lavoro paga il sindaco uscente si conferma con la sua squadra rieletti 6 consiglieri su 8 più 799 voti rispetto al 2016 al centro-destra della Betonica non è bastato il mister preferenze cancellieri sbandamento inaspettato sì perché in effetti allora se andiamo a vedere le preferenze allora come vedete 58% quasi 59% Feduzzi 41% invece Betonica trainato Betonica da Giorgio Cancellieri che ha ottenuto 553 preferenze Cancellieri è stato anche sindaco leghista del paese appunto di Fermignano mentre nella lista Fermignano futura Alessandro Betonica non so se è parente con Delfina che però è nella lista concorrente quella del sindaco rieletto ne ha prese 304 ora chi è Feduzzi lo sappiamo più o meno 39 anni è farmacista e insomma adesso guiderà di nuovo per 5 anni il paese di Fermignano mentre accoglie al Metauro il nuovo sindaco è Pietro Briganti 51enne l'ha impiegato laurea in economia e commercio assessore uscente assessore uscente esattamente lui dice porteremo avanti porteremo avanti con impegno e rispetto un po' anche quello che ha iniziato l'ex sindaco Stefano Stefano insieme per crescere la più votata è stata Anna Maria Mascarucci con 740 mentre in energia in comune Alessandro Cadem 430 l'ultima pagina l'abbiamo riservata per lo sport ma soprattutto per i tifosi del basket pesarese la VL perché? perché domani i tifosi torneranno finalmente al palazzetto dello sport al Palasport il posticipo con Trieste è molto importante anche perché riporterà appunto la gente sugli spalti e sarà penso emozionante e quindi è giusto sottolinearlo noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi auguro come sempre una piacevole giornata la trascorrere anche in compagnia dei nostri programmi ci rivediamo invece questa sera alle 20.30 con l'informazione il telegiornale di Fano TV occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti